Che cosa rappresentano eventi come questo per l'Istituto e qual è l'importanza della medicina narrativa? La medicina narrativa e l'importanza di questo convegno rappresenta l'importanza che noi diamo a tutto ciò che riguarda le necessità dei pazienti nella malattia. La malattia non è solamente una diagnosi, non è solamente una terapia farmacologica o chirurgica, ma la malattia è una rottura della dimensione individuale e familiare che molti pazienti hanno. Quindi l'affiancamento della narrazione a tutto ciò che nella scienza è basato sull'evidenza è un aspetto estremamente importante per la qualità di vita dei pazienti. Cos'è SIPO? Società italiana di psico-oncologia che raccoglie i cultori e gli operatori psicologi in ambito strettamente oncologico. Questo evento organizzato qui al Beste e ringraziamo per l'ospitalità incentra proprio sul ruolo della SIPO, ruolo dello psico-oncologo nella storia oncologica del paziente. La medicina narrativa è uno strumento per migliorare la relazione degli operatori con l'attore principale che non dimentichiamo è il paziente. Il paziente e la sua famiglia. L'oncologia e la scienza oncologica hanno fatto veramente moltissimo per personalizzare e caratterizzare il tumore. Dobbiamo fare lo stesso per caratterizzare meglio il nostro paziente. Il paziente che è fatto è una dualità ma imprescindibile di corpo e di mente. Non siamo qua a portare i dati, siamo qua a raccontare storie, la nostra storia, la storia dei nostri pazienti. I limiti dell'oncologia di oggi sono noti ma il limite più grosso secondo me è già nel linguaggio che esprime quello che purtroppo non dovrebbe essere. Si parla di casi, si parla di decessi, si parla di uorti. Non si parla né di uomini né di donne. Quello che è importante è la cura, quello che è importante è dare un senso a queste vite. Ce ne andremo tutte, non è lineare, faccio circolare, ma quello importante è il modo, la dignità in cui se ne va. Se consideriamo semplicemente il dato, la casistica, perché a fronte di un protocollo che è comune ci sono delle persone che ce la fanno e delle persone che non ce la fanno. La differenza fondamentale resta l'umanità. Quale importanza ha la medicina narrativa nel rapporto medico-paziente e soprattutto per il paziente? Oggi le neuroscienze lo dimostrano, dimostrano che le storie hanno un impatto sulle nostre convinzioni, sulle nostre credenze, sui nostri stati d'animo. Persino, a volte, sulla nostra biologia. Allora, medicina narrativa vuol dire umanizzazione della cura, centratura della medicina sulla relazione medico-paziente, cura della qualità della vita del paziente, ma anche potenziamento delle cure e delle terapie che noi al paziente proponiamo. Trovo che la medicina narrativa sia un approccio fondamentale all'interno del contesto di una medicina centrata sulla persona ed è un approccio fondamentale nel modello di medicina moderno, biopsicosociale, in cui, come sappiamo, non si cura la malattia, non si cura il corpo malato, ma il centro dell'interesse è la persona malata in tutti i suoi aspetti e quindi l'approccio di medicina narrativa è un po' quello che fa da legante, da collante all'interno dell'equipo multidisciplinare negli interventi dei vari professionisti. Il paziente, la persona che noi incontriamo alla fine della sua vita, è una persona con una serie di storie da raccontare che ha un'esperienza di malattia che può essere tradotta in storia e quindi la medicina narrativa, se ben applicata, può essere di forte aiuto e sostegno per noi curanti anche in queste ultime fasi di vita, di malattia e di vita della persona che diventano difficili da gestire e diventa difficile essere di sostegno anche al paziente e al familiare stesso. La narrazione aiuta il paziente ad elaborare quella che è la sua storia. All'interno di questo convegno io ho avuto il piacere di poter portare le storie di quattro persone speciali Maria, una giornalista, Vincenzo, un'artista, Rosanna, una poetessa e Nicola, che mi piace definire un po' come un pittore, un cuoco. I loro interventi sono stati molto emozionanti, io li ringrazio di cuore per aver partecipato e essersi così aperti e mostrati anche in un contesto difficile come quello di un convegno. Fatemi ringraziare anche la dottoressa Fariselli perché da cinque anni mi lascia realizzare un convegno di psico-oncologia all'interno della fondazione, quindi grazie in primis a lei ma poi a tutta la fondazione, in particolare anche la dottoressa Bloise che con tanta pazienza mi è stata dietro nell'organizzazione di questo convegno. Oggi per me è una giornata speciale perché ho, per certi versi, realizzato un sogno che avevo fin da piccola fin dal lontano 2003 quando ho partecipato al primo corso della SIPO e oggi ho il piacere di sedermi al tavolo del Consiglio regionale SIPO Lombardia e quindi ne sono veramente onorata, quindi oggi proprio una grande giornata.